Il TACI Rail è da sempre impegnata sul tema dell'innovazione e vede la trasformazione digitale dei trasporti come un elemento fondamentale per la realizzazione di una mobilità sostenibile. La città di Trento, grazie ad un tessuto industriale altamente tecnologico, un operatore di trasporto, Trentino Trasporti, altamente recettivo nei confronti dell'innovazione, un sistema di trasporti multimodale, una grande focalizzazione nei confronti della decarbonizzazione, rappresentano un campione altamente significativo per la realizzazione di soluzioni di trasporto sostenibili. Per i TACI Rail, mobilità integrata significa digitalizzazione, semplificazione, accessibilità e sostenibilità. La crescita delle città ha portato un incremento delle soluzioni di trasporto, sia pubbliche che private. Allo stesso tempo, però, lato utente, questo incremento dei servizi e dell'offerta rappresenta una maggiore complessità nell'accesso ai servizi. Per questo motivo, i TACI Rail, grazie all'implementazione della soluzione 360 Pass, permette ai cittadini e agli utenti di accedere tramite una singola applicazione ai servizi multimodali della città. L'applicazione permette agli utenti di programmare e pianificare il viaggio multimodale tramite Travel Planner, permette di selezionare sistemi di pagamento, acquistare titoli di viaggio, validarli tramite QR code in stazione o sui mezzi. Inoltre, è possibile, all'interno del perimetro della città di Trento, pagare la sosta nelle aree blu. Sulla linea Trento-Malemezzana, i TACI Rail ha implementato un sistema altamente innovativo per l'acquisto dei titoli di viaggio e la validazione in modalità completamente automatica, grazie all'installazione di sensori Bluetooth che riconoscono automaticamente lo smartphone in stazione e i suoi mezzi, rendendo pertanto l'esperienza di viaggio migliore per tutti gli utenti. I TACI Rail è tradizionalmente global leader nel settore dei trasporti, in particolare nella fornitura di sistemi per il segnalamento ferroviario, soluzioni di trasporto e rolling stocks. Lo Smart Ticketing rappresenta per i TACI un pilastro fondamentale per la visione della Smart Mobility, integrando soluzioni in diverse aree chiave, Smart Ticketing, Mobility Management e soluzioni di mobilità elettrica. Questa è la visione di TACI per il futuro.